Here comes the sun. Ecco che arriva il sole. Non sono i Beatles, è moda a basso costo, che dopo il lungo lockdown festeggia la riapertura. A Londra, Oxford Street è piena di gente, soprattutto ragazzi tutti eccitati che corrono e si spintonano per entrare nei fast food e nei grandi magazzini, oltre che nei pub, per farsi finalmente una birra in compagnia. Forse più del consumo e la voglia di incontrarsi che ha spinto i britannici fuori casa, salvo mettersi subito al riparo perché fa freddo ed è pure caduto qualche fiocco di neve. Sole, vento, pioggia, neve, il solito tempo ballerino di queste parti che si addice a giornate un po' allegre e un po' tristi per i sudditi di sua maestà. Le commemorazioni per il principe Filippo si susseguono. Oggi al Parlamento prima si è riunita la Camera dei Lord, di cui fa parte il primate della Chiesa Anglicana, l'arcivesco di Canterbury Justin Welby, che ha ricordato la sua vita di straordinario servizio. Poi alla Camera dei Comuni il premier Boris Johnson ha sottolineato il suo instancabile sostegno alla regina. Compostezza e mestizia, colori spenti, accanto alle tinte sgargianti dei parrucchieri pieni di persone che vogliono farsi un taglio o una piega. Affollati anche gli zoo, ovviamente di famiglie con bambini, per vedere da vicino esseri viventi che dalla cattività non escono mai. Dopo il successo della campagna di vaccinazioni, invece, i britannici da oggi sono liberi di entrare in un negozio di beni non essenziali o in una palestra.